Denise Capezza, direttamente da Gomorra 2, la serie. Marinella, tu sei una star in Turchia, è giusto? Ci racconti questa cosa? Io ho iniziato a lavorare in Turchia quando avevo 20 anni, perché mi ero trasferita a Roma e ho sostenuto un'edizione per una serie turca. Ho fatto quattro audizioni in lingua inglese per un personaggio della protagonista, una ragazza moldava, la cercavano in Italia perché il moldavo e l'italiano si assomigliano. E quindi hanno fatto le audizioni anche in Italia e alla fine hanno trovato me. Quindi sono partita per Istanbul e poi sono rimasta lì tre anni perché le proposte sono continuate e ho continuato a lavorare in Turchia. E poi sono tornata per i provvini di Gomorra. Recitavo in turco, tra l'altro. Ah, recitavi in turco? Quindi ho dovuto imparare il turco in tre mesi. Noi sappiamo che ti sognavi di fare la ballerina. Poi un incidente al ginocchio ha interrotto un po' questo tuo percorso, questa tua carriera. Si può dire che però nulla accade per caso? Esatto, sì. Forse è andata meglio così, insomma. Sì, ho avuto un incidente dopo il diploma e quindi in realtà potevo continuare a fare danza. Sono stata un anno ferma, però avrei potuto poi riprendere. E invece no, perché mi sono avvicinata naturalmente al mondo della recitazione, che poi è diventata, insomma, la mia vita, la mia passione. In maniera molto naturale, nessuno mi ha scoperto, mi sono scoperta da sola. Come sei arrivata a Gomorra? Guarda, un percorso molto standard. Mi sono iscritta a dei corsi, ho lavorato parecchio, insomma, perché sono una stacanovista. Poi mi sono trasferita a Roma, ho trovato un'agenzia che mi ha iniziato a proporre i primi provvini. Quindi tutto in maniera molto lineare. Hai lavorato con Solli, ma? Sì, io sono stata scelta da Stefano. Ho fatto quattro provvini per il ruolo, gli ultimi due con Stefano. E poi ho lavorato soprattutto con Francesca Comencini, che è stata quella che ha diretto gli episodi della prevalenza femminile. Tu dicevi di essere affezionata a Marinella. Sì. A questo personaggio che in qualche modo conduce una vita che non è la sua, no? È costretta da un sistema. Esatto, sì. Un sistema a vivere in questa ombra continua. Un personaggio al quale mi sono affezionata molto perché ha un'evoluzione all'interno della storia. Quindi è stato bello lavorare sui cambiamenti di Marinella, no? Che prima è succube di Chanel e poi improvvisamente dirà fuori tutta la sua forza nascosta. Ci sono delle realtà così di giovani donne che si trovano a vivere delle situazioni che magari in circostanze diverse non avrebbero vissuto, come il caso di Marinella che si sposa giovanissima, un uomo di Camorra, e quindi si ritrova in questa prigione. Lei è carcerata come il marito. State già pensando dove girare, come girare? Lo so che c'è un segreto tipo il conclave vaticano. Che gli attori di Camorra neanche sotto tortura possono parlare, quindi... Il tuo personaggio, secondo noi, che siamo il pubblico, potrebbe diventare una chiave per la giustizia. Finalmente potrebbe fare, come dire, trapelare un po' di giustizia dentro Camorra. Sì, perché lei fondamentalmente è l'unica che va alla polizia a denunciare. L'unica. Quindi sì, è una strada possibile. Che noi è percorribile. Percorribile. Fare una battuta al personaggio Mario, giusto? Che è praticamente l'autista di Chanel, amante di Marinella nella fiction, quindi che fa una brutta fine con lui, no? Ci racconti questa scena, come l'avete preparata? Perché voi... È stata una notte molto... Però vogliamo dire come finisce il tuo personaggio, magari. Il tuo personaggio finisce agonizzante a terra, quindi in realtà non è chiuso del tutto, ma nel pratico sì. La scena dello sparo, nelle parti basse, è tutto a posto, è stata lunga, è stata una notte lunga, poi c'è tutto il lavoro di costumi, ci sono tre, quattro pantaloni uguali, magliette uguali. Abbiamo fatto tre ciac, anche perché erano tre, appunto, i cambi, quindi non si poteva andare oltre, e sono andati bene. Ma già solo là, poi degli effetti speciali... Cioè, tu quando guardi la serie non senti un dolore da qualche parte? No, me lo dicono in tanti, esatto. Chi mi ferma prevalentemente mi chiede questa cosa, nel senso, ironizza ovviamente. Valeria, lei è Valeria Klez, direttamente dal Kazakistan, devi provare a fare di lei una piccola marinella. Sono sette anni che ho tenuto murata viva e cadendo, con stuciate e morte, e che la ceste mamma da che mi sta sempre un gol. L'ho vista spaventata! Sono sette anni che mi tenuto murata viva e stuciate e morte, perché la cesta mamma da che mi sta sempre un gol. Bravo, bravo, bravo. Grazie, tenissimo. Grazie a voi. In bocca al lupo, grazie per questa domanda. Grazie, grazie.